Amato Pdl e Pid Fuori invece il cosiddetto cartello regionale Pd, Mpi, Futuro e Libertà E i partiti più piccoli La seduta pertanto è stata volutamente fatta saltare Perché al momento non è stato ancora trovato un accordo Quello che doveva essere il giorno della conta dei voti Pertanto non lo è stato La seduta è stata rinviata domani alle 10 Ma pare essere molto probabile Che l'elezione del Presidente del Consiglio Venga ancora posticipata Forse bisognerà aspettare l'anno nuovo Nessuno dei consiglieri avrebbe infatti dimostrato La volontà di voler procedere al voto anche domani Una situazione politica complessa Che si intreccia strettamente con il destino Delle due giunte, quella comunale E quella provinciale Dorse e Zambuto infatti attendevano l'esito della votazione Al Consiglio Comunale di Agrigento Per trarne le loro conclusioni Ma forse anche per loro Ormai tutto è posticipato al 2011